la signor panda mi deve ripresare quello che ha ripetuto perché la mia amica ha perso la story io adesso la taggo su instagram che lei non sa usare dopo le insegnerò a vedere la posta in diretta perché attraverso quello magari qualche follower chiede di venire a fare il giro in gondola con lei che è bravo che ci ha fatto vedere dei posti magnifici dopo le faccio vedere da instagram che lei ha detto che ce l'ama non lo usa mai come si può vedere il messaggio in diretto perché lei li può prendere dei clienti che magari dicono signor panda noi dobbiamo venire il prossimo weekend e ci porta a fare il giro in gondola capito ok è perché non vengo ma io sono iniziato qui a lavorare in piazza marco sono iniziato qui da giovane e qui si chiamano i squali perché quelli degli altri traghetti vengono poco da queste parti ah è fuori e fuori zona ah ecco perché invece dei canalini la queste ma la chiesa della salute dov'è che me la sono persa adesso andiamo qua a fare una preghierina alla chiesa della salute ma la chiesa della salute e quanto abbiamo dato al tassista prima? Cassa! 200 no vabbè mi sembra davvero il cassiere dietro ahahahahah cassa 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 allora adesso andiamo a mangiare io lo chiamo comunemente cipriani ma in realtà Venezia si chiama? Paris Dulce Paris Dulce giusto? è legata adesso vi faccio vedere la parte che è carinissimo grazie signor prego è quello è il taglio lì non cipriani là c'è piazza San Marco alla vita alla salute all'amicizia e alle giornate belle e al? e al lavoro guarda che venale e alle giornate no ma terribile guarda Anna e alle giornate belle come queste grazie di questo bellissimo weekend bellissimi due giorni passati insieme ieri sera vi ho odiato però ahahahahah non io ragazzi abbiamo Ricky che è arrivato ahahahahah ahahahahah Cristina tu invece li ha stessi Cristina amore perchè puoi fare due parrucchi in più eh due parrucchi ma guarda che stupida ahahahahahah ahahahahah volevo dire che abbiamo aggiunto un'amica al nostro gruppo nuova accolto accolto come dice Anna ma a presto ma non parliamo ci siamo a livello internazionale non è che parliamo della come dicevo prima a Venezia abbiamo un po' di cose da svelare intanto abbiamo il nostro taxi che è Ricky Martin on on dos tres eccolo maria eh e sua mamma gli ha detto perchè ha fatto la storia prima ma scusa ma cosa sei Ricky Martin l'ha chiamato cioè mi fa troppo morire comunque siete tutti belli avevi detto si ma si e poi c'è sempre quel mistero che vi racconta no per me sei stata apportunata non c'è neanche troppi belli no il nostro alla luce qui dov'è? alla luce guarda